E se un giorno ci ritrovassimo tutti ciechi, senza un motivo e senza sapere il perché, ma con l'assoluta certezza di vedere solo un pieno infinito inesauribile bianco? Una catastrofe che colpisce un'intera popolazione che in poco tempo si trasforma in qualcosa di tutt'altro che umano. A raccontarcelo sono gli occhi di una donna, l'unica a non aver perso la vista, costretta ad assistere al degrado di una società, la sua e la nostra società, che immersa nel bianco assoluto perde il senso della ragione, della condivisione, del pudore, della vita stessa. Assistiamo all'abbandono di principi considerati fondamentali e indispensabili e all'affermarsi di istinti, di lotte, di abusi. In tutto questo esiste però, ancora, uno spiraglio di luce, una forza che lega e unisce un gruppo, sconosciuti, che senza sapere chi sia il loro vicino, imparano ad amarlo e a condividere con lui tutto. Un romanzo universale che ci mostra la vera natura dell'essere umano, comprensibile solamente in un mondo di ciechi, dove ognuno è uguale all'altro.